esviz cp7 videocitofono smart salve amici e bentornati sul canale charlie oggi parliamo di domotica e quando lo facciamo insieme a esviz è sempre un piacere io di questo marchio ho già recensito altri dispositivi come le telecamere ma il dispositivo che rimane nel mio cuore è lo spioncino svizz se non conoscete questo dispositivo alla fine di questa recensione vi lascio il studio completo quindi mi raccomando andatelo a vedere oggi concentriamoci su questo videocitofono abbiamo detto modello cp7 il kit è composto da una unità esterna che va montata appunto all'esterno quindi unità impermeabile e da un display 7 pollici che va montato all'interno di casa due dispositivi si collegano tra loro tramite un cavo a due fili e tramite questo cavo a due fili passerà sia l'alimentazione verso l'unità esterna sia l'audio che il video e tutti quanti i comandi ora andiamo a vedere tutte quante le caratteristiche principali parliamo di un videocitofono smart che ha una visione notturna fino a 5 metri risoluzione 2k abbiamo un angolo di visione di 162 gradi e vi assicuro che 162 gradi sono veramente tanti abbiamo un sensore di movimento è lo stesso che troviamo insieme alle telecamere che all'interno dello spioncino quindi posso dire che funziona veramente molto molto bene la possibilità di aprire sia il cancello pedonale che un cancello elettrico naturalmente tutto è gestibile tramite applicazione abbiamo tre tag RFID per aprire il cancello naturalmente l'audio è bidirezionale supporta il wifi 2.4 e 5 gigahertz compatibile con alexa molto velocemente andiamo a vedere cosa c'è dentro guida rapida qui abbiamo unità esterna materiali ottimi qui abbiamo questa gomma telecamera qui davanti tasto per citofonare poi qui abbiamo display da 7 pollici guardate quanto è sottile veramente molto molto sottile qui lo slot per inserire la micro sd andando avanti abbiamo allora alimentatore per andare ad alimentare il display una volta che alimentiamo il display con i due fili di collegamento tra il display e la parte esterna andremo ad alimentare anche l'uvità esterna qui abbiamo un alimentatore da 24 volt in questa bustina vari fili per il cablaggio i tre tag RFID che si serviranno per aprire il nostro portone e vanno appoggiati qui dove c'è questo simbolo quindi basterà appoggiare il tag e andremo ad aprire il cancello cacciavite per andare a montare i due dispositivi cacciavite reverse qui abbiamo gli stop i fisher i tasselli per fissare i due dispositivi al muro staffa per fissare il display al muro qui abbiamo altri libretti delle istruzioni poi sempre qui dentro abbiamo le due dime molto importanti queste servono per fare i fori dritti al muro quindi le due dime una naturalmente per il display e una per l'unità esterna adesivo e svizz e poi credo che non abbiamo più niente spinottino supplementare da collegare al display se prendiamo l'alimentazione 24 volt da un'altra parte quindi abbiamo spinottino allora con il cacciavite andiamo a smontare la copertura dell'unità esterna quindi abbiamo il connettore per collegare i due fili che vanno verso l'unità interna due fili verso il cancello elettrico e due fili verso il cancelletto pedonale mentre dietro al display abbiamo i due fili per collegare appunto l'unità esterna e questi altri fili servono se vogliamo collegare altri display quindi ora abbiamo lo spinotto per l'alimentatore quindi adesso mi vado a procurare il cavo e andiamo subito a configurare il dispositivo filo trovato mi raccomando quando andate a fare questo collegamento rispettare sempre le polarità adesso poi andiamo a vedere nel dettaglio meno e di più allora facciamo che il di meno è il marrone quindi l'importante è che il di meno che mettiamo qui come marrone poi lo dovremo andare a riportare anche nell'unità interna blu sarà il mio più quindi unità esterna collegata stessa cosa unità interna quindi il display abbiamo detto blu è il nostro più quindi ci mettiamo qui sul più perfetto adesso possiamo andare ad alimentare il display vi ricordo che l'alimentazione all'unità esterna passa attraverso il display quindi attraverso questi due fili alimentato vediamo che già il display si è acceso ok qui andiamo a scegliere la lingua italiano confermiamo qui ci andiamo a collegare alla nostra rete wifi qui andiamo a mettere la password della nostra rete wifi ok registrazione in corso diciamo che la configurazione è quella che normalmente fate per una telecamera e quella che fate per uno spioncino qui ci andiamo a collegare direttamente all'applicazione ezwiz quindi andremo ad aprire l'applicazione ok andiamo a fare aggiungi tramite qr code andiamo a scansionare il qr code perfetto dispositivo aggiunto qui ci fa una specie di tutorial ok e siamo collegati eccomi qua adesso è normale che c'è un pochettino di eco quindi lo vado anche a disabilitare subito entriamo subito nelle impostazioni allora da questo display da questo grandissimo display possiamo andare a vedere insieme tutte quante le impostazioni più o meno sono quelle che ritroviamo all'interno dello spioncino quindi monitoraggio intelligente abilitare il rilevamento della figura umana andrà a modificare la sensibilità del rilevamento e andare a decidere dopo quanti secondi ci deve arrivare una notifica perché questo dispositivo funziona sì come il videocitofono quindi quando viene prenduto il tasto vedremo la persona che ci sta citofonando direttamente sul display o sull'applicazione quindi sul nostro telefono ma questo dispositivo funziona anche come una vera e propria telecamera di sicurezza quindi quando una persona stazionerà di fronte al nostro dispositivo ci arriverà comunque una notifica sul nostro cellulare questo è come si presenta l'unità esterna quindi abbiamo il tasto illuminato se io vado a suonare si accende il display ma mi arriva anche la telefonata a me quindi posso rispondere da telefono e sono collegato una volta che ho risposto al telefono posso naturalmente andare a vedere e parlare con la persona che si trova di fronte al videocitofono e inoltre posso anche andare ad aprire il cancello se viene collegato o addirittura il cancello elettrico adesso andiamo a vedere che cosa intendo per cancello o cancello elettrico se torniamo qui dietro abbiamo detto che abbiamo la possibilità di andare ad aprire sia il cancello pedonale che il cancello elettrico purtroppo mi si è rotto il tester comunque lo utilizzeremo uguale allora impostato su corrente continua 12V meno su meno più su più vi faccio vedere cosa succede quando vado da display ad aprire la porta clicco sul tasto apri porta e come possiamo vedere ho avuto 12V in uscita questo per farvi vedere che possiamo collegare un'elettroseratura da 12V e quindi possiamo andarla ad aprire sia a display ma soprattutto anche da remoto perché naturalmente tutto quello che possiamo fare con il display possiamo anche farlo da remoto quindi con il nostro cellulare io cosa che ci tengo a dire è che dal mio punto di vista è molto importante poter rispondere al citofono anche quando non siamo in casa sia per un corriere quindi per un pacco ma soprattutto anche per una questione di sicurezza perché se qualcuno citofona per entrare dentro casa quindi verificare se effettivamente siamo presenti o meno qui abbiamo la possibilità di rispondergli facendo appunto presente che comunque siamo in casa adesso quindi non mi resta che collegare il dispositivo di fuori così li distanziamo e possiamo fare anche un po' di prove partiamo adesso che abbiamo distanziato i due dispositivi andiamo a vedere tutte quante le impostazioni da display allora monitoraggio intelligente già l'abbiamo visto quindi andiamo su schermo e immagine qui possiamo andare a decidere la luminosità dello schermo adesso è al massimo blocco automatico dello schermo dopo quanto tempo si deve bloccare lo schermo qui modalità giorno e notte per andare a decidere la parte esterna come si deve comportare io consiglio sempre automatico quindi il dispositivo andrà a decidere automaticamente quando accendere gli infrarossi poi qui possiamo anche andare a modificare la sensibilità io lascerei media quindi qui torniamo indietro temporizzazione del comando di apertura del cancello se naturalmente ci colleghiamo l'apertura di un cancello torniamo indietro suonerie e audio qui possiamo andare a decidere se la suoneria del campanello deve essere attiva e anche se la suoneria dello schermo deve essere attiva o meno qui possiamo anche andare a decidere la suoneria ne abbiamo diverse io lascio tre e anche naturalmente il livello della suoneria poi rete orario sono le impostazioni del wifi e della rete capacità di archiviazione io attualmente ho inserito una micro sd quindi qui possiamo andare a vedere quanta memoria è stata occupata e possiamo anche andare a formattare la micro sd che abbiamo inserito informazioni sul firmware comunque se eventualmente ci sono degli aggiornamenti se da impostazioni clicchiamo su indietro questo è quello che sta registrando adesso il nostro video citofo naturalmente possiamo registrare un video e possiamo anche andare a vedere tutte quante le registrazioni devo dire veramente un'ottima qualità ed eccoci pronti per parlare dell'applicazione vi anticipo che questa applicazione funziona benissimo perché io la sto utilizzando da anni è la stessa che uso sia per le telecamere che per lo spioncino applicazione compatibile sia con dispositivi android che con dispositivi us andiamo a dirla molto brevemente andiamo a vedere le impostazioni principali perché non vi voglio ammorbare allora innanzitutto appena associamo il video citofono all'applicazione ci troviamo due dispositivi il primo è il display quello che abbiamo visto prima e l'altro è il video citofono quindi la parte esterna entriamo nel display e posso andare a modificare tutte quante le impostazioni che abbiamo visto prima manualmente quindi per dire impostazioni dello schermo quanto deve durare il blocco automatico dello schermo un minuto come era messo prima anche andare a gestire la memoria interna quindi tutto quello che abbiamo visto prima adesso ci spostiamo sul video citofono allora qui in alto ho la diretta quindi adesso quello che sta vedendo quindi mi sta riprendendo qui sotto tutti quanti gli allarmi ricevuti siccome è attiva la notifica degli allarmi come possiamo vedere mentre sto facendo questo video ce ne sono veramente tanti se entriamo nelle impostazioni possiamo andare ad impostare la riporta questi sono i tag RFID che io non ho configurato comunque è semplicissimo configurarli e una volta che li abbiamo configurati possiamo aprire il portone tramite quel tag e cosa molto importante possiamo anche impostare a quel tag un orario d'apertura cioè quando deve essere utilizzato quindi se vogliamo darlo a qualcuno per farlo entrare in una determinata fascia oraria possiamo farlo grazie a quel tag molto molto interessante poi se andiamo avanti abbiamo rilevamento intelligente rilevamento figura umana io questo lascerei sempre così perché le impostazioni automatiche in questo dispositivo funzionano veramente molto bene ma normalmente tutti quanti i dispositivi svizze poi notifica di messaggio queste io vi consiglio di attivarle tutte appunto per andare a ricevere le notifiche sia quando c'è una persona ferma davanti al videocitofono o sia quando premono il tasto impostazione immagine lasciate questa automatica l'abbiamo anche visto prima per attivare l'infrarosso o meno quindi lasciamo tutto quanto automatico andiamo a vedere molto velocemente possiamo andare a condividere il dispositivo utilizzare il loro cloud play nella prova gratuita se andiamo qui possiamo andare qui sotto naturalmente a scattare una foto far partire il video far partire la chiamata parlare aprire il cancello se andiamo su altro qui di lato abbiamo anche la possibilità di andare a impostare la definizione quindi adesso è massima risoluzione adesso voglio farvi vedere un'altra cosa mi avvicino al videocitofono perché voglio farvi vedere che significa 162 gradi di anglo di visuale io mi avvicino sono praticamente attaccato cioè sono attaccato e guardate che visuale c'è questo è importante perché ci consente di avere la sagoma intera quando siamo molto vicini al videocitofono c'è bisogno che ci allontaniamo tanto quindi direi molto molto importante adesso andiamo a fare la prova del tasto quindi esco dall'applicazione premo il bottone mi arriva subito la telefonata rispondo sblocco l'applicazione ed eccomi qua sono in diretta mi allontano per l'eco anzi vado proprio ad attaccare dall'applicazione posso anche andare a modificare la voce a camuffare la voce e posso scegliere tra la voce pagliaccio o quella un pochettino più cupa altra prova che andiamo a fare è vedere come funziona il sensore di movimento quindi esco dall'inquadratura e vediamo cosa succede come ricevo la notifica quando rientro vado eccomi qua sono uscito fuori venite con me mi giro quindi mi sto avvicinando al citofono eccomi qua ed è arrivata la notifica eccola qua la vado a riprodurre qua mi avvicino al diocidofono per citofonare venite con me bene quindi abbiamo fatto tutte quante le prove non ci resta che provarlo in notturna quindi aspettiamo che cala un pochettino la luce e vediamo come si comporta è arrivato il buio e come possiamo vedere comunque la qualità devo dire che è veramente molto molto buona valeria ha citofonato naturalmente mi arriva anche la chiamata sul telefono adesso rispondiamo da display sì ciao mi senti sì anche io forte e chiaro perfetto ciao ciao altro test direttamente dal telefono valeria ha citofonato mi arriva la chiamata rispondo come mi senti bene benissimo perfetto ciao ciao tu ti sento bene ciao ciao bene amici eccoci giunti alle conclusioni su questo dispositivo c'è veramente poco da dire aggiungerei che io comprerei una casa unifamiliare solo per installarlo dispositivo che funziona bene notifiche sempre precise ottimi materiali ma diciamo che quando parliamo di svizze siamo abituati alla qualità e l'affidabilità sicuramente è un dispositivo che consiglio sia per la comodità di poter rispondere quando non siamo in casa ma anche per aumentare la sicurezza della nostra casa e dei nostri cari come sempre nella descrizione del video vi lascio il link per andarlo a vedere se avete delle domande lasciate nei commenti noi ci vediamo al prossimo video a presto Flavio